Siamo ancora all'inizio di settembre, nella prima settimana del mese, ma sta succedendo davvero di tutto sui mercati. Siamo rientrati appunto dalla ponte della Bordè, quindi dal weekend lungo appunto d'inizio settembre abbiamo avuto un mercato che ha cominciato appunto il nuovo mese in una maniera sicuramente molto diversa rispetto alle aspettative appunto che in tanti avevano dopo la conclusione di agosto. C'è stato un sell-off appunto molto importante, in particolar modo sul tecnologico, nella giornata di martedì 3 settembre appunto alla riapertura dei mercati, vendita un po' in realtà su tutti gli indici, anche sull'SP Favandro ovviamente, che è stato bloccato dalla media 50 periodi. Situazione simile anche sul Dow Jones, anche se leggermente meno grave rispetto al tecnologico e ovviamente scenario identico, praticamente identico sulle small cap. IWM, vediamo se il Russell 2000 in questo caso, nella giornata di martedì ha perso oltre il 3%. Ma oltre a questa partenza appunto singhiozzo, diciamo, o ricca di starnuti, come l'abbiamo definita io e Gianna in uno scambio di messaggi privato, c'è stata un'altra notizia che ha monopolizzato la settimana, possiamo dirlo, che è stata quella appunto relativa invece a NVIDIA. NVIDIA che ha attraversato appunto diverse giornate difficili, così come l'indici. Vediamo che martedì ha perso quasi il 10%. Si tratta appunto della perdita più importante in una singola giornata della storia, superato quella recente appunto di meta in quanto a capitalizzazione bruciata, se vogliamo usare questi termini. E quindi queste vendite su NVIDIA sono state usate un po' come il motivo dietro la discesa poi del mercato. In realtà non è esattamente così, visto che le notizie riguardanti NVIDIA, andremo appunto ad approfondirle nel corso di questo video, sono uscite almeno a livello pubblico, pubblicamente, alla fine della sessione. Quindi diciamo che NVIDIA almeno a livello ufficiale è stata vittima di prese di profitto, così come altri titoli e così come gli altri indici. Ma andiamo appunto a vedere che cosa sta succedendo al leader assoluto del mercato, del tema dell'intervento artificiale dopo la nostra sigla, ovviamente. Ma prima appunto di entrare nel vivo, voglio ricordarti l'appuntamento con la Trend Position Growth Conference 2024, che si terrà appunto ad ottobre. Abbiamo ancora qualche tagliando, molto pochi in realtà, ancora disponibile. Quindi mi raccomando, vai subito sul link dedicato, sulla pagina dedicata e non perdere altro tempo, perché veramente rischiamo, tra virgolette, di finire sold out nel giro di pochi giorni. Quindi non c'è tempo da perdere. Fatta questa raccomandazione, alla quale tenevo davvero tanto, la nostra sigla appunto, e poi entriamo nel vivo del nostro video. Ciao Recuti qua, bentornato come ti anticipavo. Il video di oggi è dedicato a quello che sta succedendo a NVIDIA, o meglio, a quello che è successo ad NVIDIA in questa settimana. C'è stata infatti una notizia che è stata diffusa nella serata, nel tardo pomeriggio appunto di martedì 3 settembre, e riguarda appunto la citazione in giudizio emessa dal Dipartimento di Giustizia americano, statunitense, nei confronti di NVIDIA e anche di altre aziende, per preoccupazioni diciamo relative appunto alla concorrenza. Nel caso di NVIDIA ovviamente è concorrenza all'interno del tema dell'intelligenza artificiale. Allora, iniziamo col dire subito che non si tratta diciamo di una notizia, o meglio di un evento ecco così piovuto dal cielo, visto che già in estate, all'inizio dell'estate a luglio, c'erano state delle situazioni simili in Francia, quindi preoccupazioni per quanto riguarda lo stato della concorrenza all'interno dell'industria, del business, dei chip, dei semiconduttori, dedicati all'intelligenza artificiale. E quindi negli Stati Uniti abbiamo avuto un po' una sequel di questa situazione, nel senso che già negli scorsi mesi lo stesso Dipartimento di Giustizia aveva inviato diciamo dei questionari a NVIDIA e ad altre aziende dove appunto si chiedevano dei chiarimenti. Quindi questi questionari possiamo definirli un po' come una sorta di prima mossa, una prima mossa amichevole o comunque non così invasiva, non così diciamo importante da scatenare lo stesso clamore ovviamente della citazione in giudizio, evidentemente lo stesso Dipartimento di Giustizia non ha ritenuto sufficienti le informazioni ricevute tramite i questionari e ha deciso quindi di procedere citando in giudizio NVIDIA e altre aziende appunto. La differenza principale è che i questionari diciamo che lasciavano un po' una sorta di margine di manovra nei termini e nella qualità anche delle informazioni da fornire. Ecco diciamo che c'era quasi la libertà di non rispondere. Per quanto riguarda i questionari con una citazione in giudizio ovviamente si è obbligati ecco a collaborare diciamo così. i mercati sicuramente hanno in parte anche interpretato ecco questa citazione in giudizio come un primo passo che potrebbe portare poi a una denuncia formale per violazione delle regole antitrust. Quindi c'è sicuramente tanta burocrazia, questo è un po' il nostro pensiero, tanta burocrazia nel mezzo in questo caso, in questa situazione visto che mi sembra quasi che cerchi un po' di condannare ecco chi è più bravo, chi è stato più bravo degli altri nel proprio campo. Quindi si sta condannando con la posizione di NVIDIA che è una posizione ovviamente di leadership come sappiamo all'interno del tema. poi la discuteremo appunto in maniera molto approfondita la Trend Positioning Growth Conference. Una posizione appunto da leader, una leadership molto molto forte che è stata costruita anche nel corso degli anni. Quindi non è che NVIDIA abbia fatto qualcosa di illegale o abbia deneggiato qualcun altro. Semplicemente ecco si è rivelata essere più brava rispetto agli altri. pensiamo a Intel con l'esplosione, con l'esplodere del tema e del mondo nuovo dell'intelligenza artificiale. Quindi mi sembra un po' che si cerchi di punire chi è stato più bravo degli altri. Questo è qualcosa che non ci piace, che non mi piace quando lo Stato cerca un po' di frenare l'innovazione, di cercare di riportare, di riallineare tutti punendo però chi è stato più bravo degli altri. Quindi anziché premiare il merito si va quasi a punirlo. Il Dipartimento di Giustizia contesta NVIDIA è il fatto di rendere difficile ai clienti utilizzare altre soluzioni che non siano le proprie, addirittura di caricare dei costi extra a quelle aziende, a quei clienti che hanno invece delle soluzioni anche alternative, affiancate a quelle di NVIDIA stesso. Addirittura sembra che non piaccia l'idea proprio di un'NVIDIA integrata verticalmente. Quindi il fatto che NVIDIA non sia più un'azienda che crea schede video, come era in passato, ma sia un'azienda, una piattaforma integrata verticalmente all'interno del tema dell'intelligenza artificiale, o meglio sia una colonna all'interno del tema dell'intelligenza artificiale, sembra che questo non sia gradito a Washington. Quindi c'è stato questo passaggio. Riteniamo anche che la posizione di NVIDIA chiaramente non cambia, per noi NVIDIA rimane la bestia, rimane la leader assoluta all'interno appunto del tema dell'intelligenza artificiale, ha un vantaggio chilometrico rispetto alla concorrenza, se vogliamo metterla in distanze, migliaia di chilometri di vantaggio rispetto alla concorrenza, ha un cuscinetto di liquidità molto molto importante, e in ogni caso, ecco, quello che sta succedendo non sembra al momento essere una storia che si risolverà nel giro di pochi giorni. Probabilmente ci vorranno mesi e mesi, ecco, prima di vedere una prima conclusione per quanto riguarda quello che è stato rivelato appunto nella serata di martedì. Anche guardando il grafico poi di NVIDIA, assolutamente un calo molto importante, notevole, dicevo che è avvenuto però prima della pubblicazione di questa notizia, quindi a pensare male, ecco, potremmo dire che qualcuno, ecco, ha avuto conoscenza di questa notizia prima che diventasse di dominio pubblico, ed ecco perché queste vendite così importanti con quasi un meno 10% volumi sopra la media superiori alla giornata precedente, quindi è possibile che c'è stato un po' un leak, diciamolo, di questa notizia prima della sua pubblicazione ufficiale. La notizia è stata rilanciata poi da Bloomberg appunto nella serata di martedì, ma guardando a quello che è successo nella sessione di martedì 3 settembre sembra appunto che qualcuno sapesse già quello che stava arrivando. Bisogna dire anche che poi NVIDIA ha seguito quello che il mercato ha fatto in quella giornata, sì, il mercato ha seguito NVIDIA, ma anche NVIDIA, così come tanti altri titoli, ha seguito quello che il mercato stava facendo. Bisogna anche essere onesti da questo punto di vista e quindi anche, diciamo, disonesti invece pensare che NVIDIA adesso non sia più la NVIDIA di un mese fa, ad esempio. Non è cambiato assolutamente nulla, si tratta di un passaggio appunto burocratico che è ancora lontano dalla sua conclusione. Sicuramente una ripercussione importante sul titolo stesso, ma il titolo stava già soffrendo in realtà dall'ultima trimestrale. Che avevamo avuto prima della pubblicazione della trimestrale è questa bella Endol, Endol che poi è fallita appunto dopo la pubblicazione della trimestrale avvenuta nella notata di mercoledì. Trimestrale che fra le altre cose ha battuto le aspettative e le attese, ma è mancato sicuramente, ecco, quell'effetto wow, quindi questa grande sorpresa, questo numero sussurrato che appunto viene discusso all'interno di Wall Street che nelle trimestrali precedenti era stato raggiunto e superato, che in questo caso evidentemente no, non è stato così, quindi sono state battute le stime ufficiali, ma questo numero sussurrato invece non è stato raggiunto da parte di NVIDIA che ha comunque pubblicato una trimestrale ancora una volta molto, molto positiva, così come è stato positivo ancora una volta all'intervento appunto del suo CEO durante la call, la conferenza appunto relativa alla trimestrale. Sicuramente con la notizia di martedì sera poi ha un po' accelerato queste vendite, vendite che però erano già in corso dopo la pubblicazione della trimestrale. Quindi no, NVIDIA non è morta, non è morta neppure dopo questa azione intrapresa appunto dal Dipartimento di Giustizia e riteniamo ancora che abbia tanto, tantissimo da dire, sia anzi la colonna portante poi del mondo nuovo all'interno del tema dell'intelligenza artificiale, tema dell'intelligenza artificiale che è poi quello che un po' regge ecco tutti gli altri sottotemi. Ok, questo era un po' il chiarimento da parte nostra su quello che è successo martedì e qual è la nostra posizione a riguardo. Ovviamente poi il mercato ha sempre ragione, quindi ci baseremo, baseremo le nostre azioni su quello che succederà nei grafici, ma teniamo sempre in considerazione anche quella che è la vision, quindi la visione del futuro appunto del ruolo di NVIDIA. Parleremo di questo, lo ribadisco, alla Trend Positioning Growth Conference. Va bene, quindi se questo video è stato di tuo gradimento ti invito a mettere un bel mi piace, iscriviti al nostro canale e perché no, commenta pure sotto lo stesso video esprimendo la tua opinione, il tuo punto di vista, in questo caso assolutamente legittimo su quello che sta succedendo, su quello che è successo martedì. Ti ringrazio ancora una volta per la tua attenzione, ti aspetto al prossimo video e ovviamente ti aspetto a ottobre a Milano. Ciao!